Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi sono qui su GTA V per fare il secondo episodio del video della serie, della piccola serie Veicoli strani su GTA V Ragazzi oggi vi mostrerò una serie di veicoli strani che sicuramente vi piaceranno dato che mi piacciono anche a me e sono fighissimi, sono davvero molto 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 strani E per questo io vi invito a lasciare un bellissimo like già da ora Arriviamo a 1000 like se volete il prossimo episodio di questa serie Quindi mi raccomando ragazzi 1000 like per supportarmi è d'obbligo praticamente no? Commentate qui sotto con l'hashtag che vi lascerò verso la fine del video perché chi commenta con l'hashtag praticamente diventa partecipe del video E insomma lo ringrazio davvero tantissimo e lo ringrazio anche con un cuore Beh io direi di partire e partendo ragazzi vi dico che l'altro giorno ho caricato un video sul crash test ed è andato davvero abbastanza bene Io comunque vi invito a vederlo se non l'avete già visto quindi vi lascio il link che so qui sotto in descrizione o da qualche parte Il primo veicolo ragazzi il veicolo più strano a parer mio è più bello più divertente che io abbia mai visto su GTA V Voi ora non ci starete capendo proprio una beata minchia per forza Però ora mi alzo in cielo perché praticamente un elicottero ed esattamente è un... come cavolo si chiama questo? Un Savage Questo Savage ragazzi è praticamente quello là che spara infatti anche questo può sparare effettivamente Ma ha una particolarità che si è intravisto subito Cioè è praticamente una cosa davvero molto molto figa Ovvero anziché le sue classiche eliche ha a disposizione questa fantastica ruota panoramica Che diciamo non si vede tutti i giorni un elicottero con una ruota panoramica E devo dire che è abbastanza agile con questa ruota panoramica E spicca molto facilmente il volo È molto molto agile come state vedendo E immaginate se creassero davvero un elicottero del genere Cioè io non mi metterei mai più su una ruota panoramica Perché guardate come girano queste cose Cioè girano da far paura e fanno davvero tanta tanta paura Io non mi metterei mai e poi mai all'interno di queste ruote panoramiche Perché ti viene il volto a stomaco vomiteresti Dalla mattina alla sera praticamente Cioè tanto per dire sembra una specie di UFO Ora non so per quale motivo sta crollando E vabbè si è buggato tutto Olè il tagadà il tagadà sembra Ok finalmente un po' di pace È un periodo di pace raga Cioè sembra una ruota panoramica Che è caduta dal cielo Così a caso Per strada Chi ha creato questo veicolo O chi minimamente l'ha pensato Cioè praticamente è un genio Mi piace troppo Tra l'altro guardate come ho parcheggiato il mio elicottero Tra un palazzo e l'altro Cioè Ok anche questo veicolo è un veicolo diciamo di volo Ok Perché praticamente è una specie di Che so Come cavolo lo posso chiamare Un satellite? No Come cavolo lo posso chiamare Raga non mi viene Vabbè tipo un missile Un razzo che si lancia sulla luna Solo che ha un aspetto molto strano Praticamente questo Questo boiler Questo coso che contiene l'acqua insomma Praticamente è stato Montato sopra un hidra E guardate quanto è figo Vedere sto coso che gira Come potete vedere qui dei razzi Una specie di razzi All'interno di questi container Questa cosa è davvero molto figa Cioè devo dire Mi piace tantissimo Vedere sto coso Guardate Arriva Sembra che va lentissimo Ma in realtà va Velocissimo sto coso È un siluro È un missile Tra l'altro c'ha tipo i pannelli solari Quindi potremmo alimentarlo Con i pannelli solari Tranquillamente Ma ora perché sta affondando Perché sta affondando ragazzi Ecco È arenato Cioè si è bloccato Siamo caduti dal cielo Un meteorito è caduto Raga Abbiamo sfondato il mondo Abbiamo sfondato Praticamente abbiamo parcheggiato Con il nostro veicolo strano Bene a posto Possiamo uscire Ok io a questo punto vi faccio Degli indovinelli Ok Con questi veicoli super strani Che non hanno senso di esistere Vi faccio degli indovinelli Ok vabbè Dove è seduto Franklin Praticamente su un cestino E che cosa intiene in mano Per guidare È una mazza di scopa Ok Questi ve li dico io Ma quali sono le diciamo Ruote che ha Questo veicolo Questa specie di moto Che tra l'altro dovrebbe poter impennare Infatti Mi impenna Che Quali sono le altre Le parti bianche Che praticamente girano Come potete vedere Io lo so quale sono Sinceramente Però me lo dovete dire voi Qui sotto nei commenti Perché io sinceramente lo so E non è tratto difficile Riconoscerle tra l'altro Però comunque È un veicolo Mai visto Aspettate Non ha le collisioni Vero non sposta veicoli Sto coso No per niente Vabbè comunque È un veicolo strano Ok questa moto Non lo so Questa moto è proprio È una moto normale Solo che c'è una cosa strana Però Dai Non è nulla di che Non è nulla di che Praticamente questo è un pacco È una bambola gonfiabile Che stiamo portando Praticamente È un nostro cliente Noi facciamo parte dei corrieri Uno ha ordinato Una bambola gonfiabile Su Amazon E noi praticamente Gliela stiamo portando a casa Infatti la bambola Gliela dobbiamo consegnare a questo qua Ecco la bambola è tua Ora porta Te la va Anche perché quella non era una bambola Ve l'assicuro Non era una bambola Era un tizio che mi aveva dato fastidio E l'ho imbottigliato lì dentro Imbottigliato non è neanche il termine corretto Tra l'altro Ok raga posso dire Posso dire di aver fatto tutto nella vita E di essere stato anche Harry Potter Come potete vedere qui c'è la scopa volante di Harry Potter Ci manca solamente la pallina Da mettere in buca E possiamo fare di tutto Cioè ora mi installo la skin di Harry Potter Quanto è vero Gesù E mi Insomma mi diverto così Caspita Questa è la mazza E la scopa praticamente Di Harry Potter Stop Cioè è fighissimo Quanto è figo raga Certo ora ci stiamo andando a schiantare Però No No Ok Diciamo che queste scopa non è dagli hardbag E nemmeno il casco Quindi se ci facciamo male Se cadiamo dalla scopa Ci facciamo solo qualche graffio Ma direi solo qualche graffio Ok io perché sto trasportando degli animali Per quale motivo E poi con quale veicolo strano Con quale veicolo proprio da contrabbandiere Cioè sto trasportando Chop Oh ma questo è il mio cane Oh Oh Fammi scendere Quello devo salvare il mio cane Oh Oh Dove sta andando Dai che ora sei fermo Ok ok Chop ti salvo io Non ti preoccupare Vengo io in soccorso Tuo Ti libero Ti libero Vieni Chop Vieni Qualcosa non è andata nel verso giusto Dovevo prendere il chop E spostarlo Ma ho fatto ribaltare il camion E le scimmie sono scappate Ok Meglio allontanarmi da questa zona Prima che la polizia mi venga a cercare Meno male che non erano leoni Oddio raga Oddio Ma non so che cosa significa sto veicolo Ora qui parte caccia al mistero praticamente Vabbè Allora Quelle sono semplici montagne russe Insomma Il veicolo delle montagne russe Che lo guidiamo per strada Per quale motivo non lo so Poi qui c'è una mappa Di Los Santos Addirittura Con tipo tutte le regiazioni Che ci sono Ma quelle cose che ho davanti Quelle cose gigantesche Enormi Abnormi E tutte aruginite Ma che cavolo sono No io non le so Sinceramente non le conosco Quindi me lo dovreste dire qui sotto Nei commenti voi In caso lo avrete riconosciuto Da qualche cosa Sembra tipo qualche macchinario Qualche boh Qualche pressa No ragazzi Sto veicolo è pazzo È assolutamente pazzo Sto veicolo Cioè io mi fermerei un attimino Su un palazzo Giusto per vederlo un attimino Da più vicino Perché non rende l'idea Secondo me sto veicolo È lentissimo Però è bellissimo Cioè guardate raga Guardate che figata è Te vuoi atterrare Maledizione Cioè è una macchina Tutta arrugginita Una macchina rotta Un rottame praticamente Che l'abbiamo riutilizzato Riciclato Con queste ruote Tipo monster track Che cavolo sono queste ruote Vabbè ruote tipo vecchie Tipo monster track E qui ci sono le minigun Attaccate su una specie di tavola da surf Che strana sta cosa E ci sono dei fari ovviamente I fari non possono mancare Ma sti cosi Ma sti cosi Ma che diamine sono E qui parte di nuovo Caccia al tesoro Ragazzi se lo sapete Qui sotto nei commenti Fatemi sapere che cosa sono Perché io ho sinceramente Mai visto sti cosi Cioè facendovi vedere Questi veicoli raga Scopriamo anche Nuovi attrezzi Che la rockstar Magari non ha messo Nemmeno da nessuna parte E quindi sono tipo File nascosti nel gioco O che comunque Sono davvero molto segreti E che potremmo trovare Nel mondo reale Di GTA V Quindi io raga Vi invito A chiunque di voi Li conosca sti pezzi Sia questo Che i veicoli di prima Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Perché è importante A sto punto poi magari Se mi fate sapere Anche tipo La zona La posizione Li andiamo a vedere Li andiamo a vedere Magari in un video a parte E tipo il video Sarà gli oggetti Più strani di GTA V Il che non è male Ragazzi L'hashtag di questo video È Hashtag Ruota panoramica O semplicemente Ruota O semplicemente panoramica Quello che volete voi L'importante è che Lasciate un hashtag Che si assomiglia Diciamo a questo Che vi ho detto io Perché? Perché voglio riprendere Il primo veicolo Che è quello più figo A parer mio Ovvero quello Della ruota panoramica Che a parer mio È il più figo In assoluto Guardate quanto è figo E ora fermiamo La ruota panoramica E quindi mi raccomando Ragazzi Commentate con l'hashtag Che vi lascio Un bellissimo coricino Quindi Hashtag Ruota panoramica O semplicemente ruota O semplicemente panoramica O le raga Mi vado a schiantare Contro la ruota panoramica Vera e propria Facciamo vedere Chi comanda Boom Ecco Abbiamo due ruote panoramiche Che bello No raga Ma che cavolo Di veicolo strano è Questo È fighissimo Avete presente Quei veicoli vecchi Tipo della guerra mondiale Insomma Quelle moto Tutte strane Che hanno tre posti Bene Questa è la moto Fighissima Per eccellenza Non ci sono cinture Quindi in caso di incidente Ve ne volerete Praticamente Di fronte al muro Quindi se io anche Facessi così Un minimo incidente Andasse a sbattere Contro il muro Praticamente La persona se ne vuole Dentro la gru La persona Seduta su quella poltrona E quindi È un po' pericoloso Bisogna stare attento È un'arma a doppio taglio Questo veicolo Raga Questo è l'ultimo veicolo Un veicolo un po' strano No sense Proprio no sense E ve l'ho lasciato Proprio per questo All'ultimo Perché è un veicolo Che non ha senso Di esistere Non so su questi pezzi Che cavolo sono Sono tipo dei missili Sembrano E l'ammazza Il manico di scopa Praticamente in mano a Franklin Non so davvero Che cosa sono E ripeto Se lo sapete voi Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Comunque ragazzi Spero che questi veicoli Vi siano piaciuti Spero che questo video In generale vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like E mi raccomando Arriviamo a 1000 like Per poter fare Un altro video di questa serie Ragazzi Commentate qui sotto Con l'hashtag Che vi ho lasciato Pochissimo tempo fa E commentando con quell'hashtag Diventate partecipi Del mio video E praticamente Vi lascerò anche Un cuoricino Quindi GG E inoltre condividete Il video sui vari social network E spero vivamente Ripeto Che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Supportatemi Che di questi tempi C'è davvero bisogno Del vostro supporto Bene ragazzi Il video si conclude qui Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bellissimo like E noi ci vediamo Bellissimo Vedere al prossimo video E Ciao ciao